E' nata Cercaci, l'associazione che riunisce 6 studi di amministratori di condominio per promuovere con Estraclima comunità energetiche rinnovabili in 7500 unità abitative di Prato e provincia. Nuovo store di Estra ad Arezzo, il nuovo negozio di Piazza Giotto si aggiunge allo store di Via Garibaldi. Nello store sarà possibile ottenere informazioni e sottoscrivere offerte commerciali di gas e luce. Luminari, presepi, spettacoli, ruote panoramiche e tante meraviglie sono i Natali di Estra di cui la Multi Utility è principale sponsor ad Arezzo di Arezzo Città di Natale a Cortona di Natale di Stelle. L'auto elettrica si ricarica anche a casa con la Wallbox di Estra che per le sue ridotte dimensioni può essere montata anche su una parete trasformando una semplice presa in una fonte efficiente di energia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.